Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Prima di iniziare, vi ricordiamo di condividere i nostri video con gli amici attraverso i social, grazie. Incidente mortale, si è verificato due giorni fa e ha perso la vita un'attrice italiana, intorno alle 2.30 a Torino Crocetta, dove due auto si sono scontrate, per cause ancora in via di accertamento, all'incrocio tra via Cassini e Corso in Audi. Secondo quanto ricostruito, a scontrarsi, una Y contro un Alfa Romeo 147. Nello scontro la Y si è ribaltata, finendo la corsa contro il semaforo. Il bilancio è di una vittima, si tratta di Morena Guerrini, 34enne, residente a Collegno, e componente del gruppo teatrali Fantastoria di Almese. Moreno è morta sul colpo. La cugina che era al volante della vettura è stata trasportata in ambulanza all'ospedale CTO di Torino, da cui è stata poi dimessa in giornata, con una prognosi di 45 giorni. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Tanti messaggi di cordoglio, apparsi sui social network in ricordo di Morena. Tra questi, quello scritto dall'associazione di cui faceva parte. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.